Bene. Riguardati, capito? Anche tu riguardati. Ti voglio bene. Briggs chiude. Briggs chiude. Ti senti meglio? O peggio? Non sono sicuro. Forse tutte e due. Staranno bene. La domanda è, io come starò? Il fuoco incrociato è a posto. Ma perché Quan Chi viaggia con mezzi convenzionali? Sembra incapace di utilizzare appieno la sua magia. È più debole di quando ero al suo servizio. Sarina ha ragione. Lui non ha Shinnok come fonte di potere. È pur sempre Quan Chi, però. Hai accettato di farci da guida e osservatore. Ma sentiti libero di assumere qualunque altro ruolo. Sono arrugginito. Non voglio compromettere la missione. Si avvicina. Ora! Ma sentiti libero di farci di farci di farci di farci di farci di farci. Merda! Merda! Get a me! Non interferire, Jackson Breeze. Torna a nasconderti. Nascondermi. Forse l'ho fatto. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Mi ha tolto di dosso la ruggine. Mi ha tolto di dosso la ruggine. Ben tornato a casa, Jackson Ritz. Questo inferno non è la mia casa. Però sei così pazzo da tornarci. Ho una famiglia da proteggere. Wan-Chi mi ha riunito alla mia famiglia. Farà lo stesso per te. Mi ha tolto di dosso la ruggine. Prendire un po' Prendire un po' Quang-C non ti ha aiutato Siamo a zucco! È possibile sfuggire a Quang-C, Kitana? Posso aiutarti? Come By-An ha aiutato... Hai familiarizzato troppo con By-An Hai permesso alle emozioni di corromperti Le emozioni mi hanno liberata Non capisco, Kitana Io odio le cose che ho fatto qui Ma a te piace essere un Revenant? Mi si addice Non sono più una vittima Già, so cosa intendi Ma non hai il modo giusto per affermarti Ma non hai il modo giusto per affermare Quang-C, Kitana? La mia è grande Ma non ho Quang-C, Kitana? Quang-C, Kitana? Quang-C, Kitana? Quang-C, Kitana? Quang-C, Kitana? Quang-C, Kitana? Getta la spugna! La scuola verrà strapazzata! 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 Grazie a tutti. 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 È bello essere tornato. Kenshi, ce l'ho. Lavoro eccellente. Io resto qui, ora in arrivo. Tu devi portare Quan Chi a Sonia. Lei gli farà sputare il rospo.